Marco Mengoni! Alla fine ha vinto il rematto Marco Mengoni da Ronciglione, Viterbo, classe 1988 e una palma che conferma pronostici e umori del pubblico. Vince l'essenziale. L'essenziale per te è? Quello che si è, quello che si vive, la vita quotidiana, le esperienze, l'amore, l'odio. Sei contento? Assolutamente sì. Voi mi vedete con questa faccia un po' triste, ma è solamente...